Oggi la Commissione ha invitato gli ordini professionali a discutere delle problematiche che vi sono all'ufficio tecnico. Come ordini devo dire che continuiamo a riscontrare da parte di tutto il personale dell'ufficio tecnico una grande dedizione al lavoro e una grande attenzione a soddisfare le esigenze dell'utenza, a cui si contrappongono delle problematiche di natura organizzativa che in parte possono risolversi. Faccio riferimento per esempio alla disfunzione creata dalla duplicazione delle funzioni relative al SUAP tra la direzione urbanistica e la direzione lavori pubblici. Questo servizio era precedentemente più razionalmente assegnato alla direzione urbanistica. Oggi si trova a sboggere dei servizi di rilascio dei titoli abilitativi edilizi pur dipendendo da una direzione che si occupa di altro. Tutto ciò chiaramente crea entropia e cattiva gestione del personale con conseguenti non solo ritardi ma anche con conseguenti difficoltà del personale che manifesta anche disagio più volte agli addetti e ai professionisti alzando le braccia su alcune situazioni. Poi si è rilevato, si è ricordato che abbiamo fatto come osservatorio nazionale dei servizi di ingegneria e architettura delle osservazioni relative al bando dei professionisti che è stato pubblicato da più di 30 giorni e ancora aspettiamo risposta. Quindi speriamo che la commissione sotto questo aspetto sia di pungolo per l'attività dell'amministrazione per risolvere a più presto queste disfunzioni che chiaramente non giovano all'attività amministrativa. La quarta commissione consigliare che è competente anche in organizzazione personale si sta interessando da tempo delle problematiche che riguardano l'ufficio tecnico nello specifico dei ritardi, nel rilascio di autorizzazioni e altre problematiche varie. La settimana scorsa abbiamo ascoltato un dirigente, questa volta invece abbiamo invitato tutti gli ordini professionali proprio per capire da loro quelle che sono le problematiche che vivono e per poi successivamente preso atto dei disservizi vari convocheremo anche gli assessori competenti per poi poter dare le nostre proposte.